Diego lo sottolineavi anche al foglio firma, partire con il numero uno porta delle responsabilità qua in Toscana, quali sono le tue sensazioni e comunque le tue motivazioni per oggi? Ma è sempre bello sicuramente gareggiare vicino casa e scorso anno mi sono levato appunto una bellissima soddisfazione vincendo e ripetersi è sempre difficile però abbiamo una bella squadra e quindi dai senza dubbio cercheremo di essere il protagonista. Un percorso che ha cambiato secondo te è più semplice o più difficile fare la differenza? Sicuramente è più difficile da interpretare perché c'è molta più strada per arrivare all'arrivo però insomma la conosco molto bene che mi sono allenato tantissime volte in queste zone e quindi dai ho detto intanto cerchiamo di avere buone sensazioni per magari provare a giocarci la vittoria.